E' stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio di ieri l'uomo di 87 anni di cui era stata denunciata la scomparsa ad Acqua Santa Termi in provincia di Ascoli Piceno. Il cadavere, secondo le prime informazioni, non presenta segni di violenza. Le operazioni di recupero della salma sono andate avanti per diverse ore. Presenti sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Grazie per la visione!